Nel cinquantesimo anniversario del concerto americano di Woodstock, uno dei più grandi eventi musicali della storia, Teramo celebra questa ricorrenza con l'esibizione dal vivo di Leon Hendrix a Piazza Sant'Anna il 7 settembre prossimo. Un format che unisce musica e cultura ideato dall'Associazione Equilibri Musicali e che farà sognare per una notte generazioni di persone al suono della chitarra di Leon, fratello del compianto Jimmy Hendrix. Siamo riusciti praticamente a contattare Leon Hendrix grazie al Fulvio Felisiano che è molto amico di Antonio Gambacorta e quindi noi abbiamo mangiato subito la foglia e abbiamo deciso per l'occasione di portarlo a Teramo. Qual è il programma della giornata? Allora il programma è semplice, siccome quei libri musicali tiene molto alla cultura, non solo musicale ma anche quella editoriale, presenteremo il pomeriggio il libro che ha scritto uno scrittore, Adam Mitchell, che si chiama Jimmy Hendrix, mio fratello, quindi il libro che è tratto da un'intervista di Leon sul fratello, poi il pomeriggio della sera, dalle 9 e mezza, a Piazza Sant'Anna comincerà il concerto dove aprirà un gruppo di potenza, la Blue Cat Blues di Donato Corbo, che tra l'altro è l'organizzatore della Connection Blues di Matera e poi dalle 10 e mezza in poi ci sarà per l'appunto il concerto di Leon Hendrix che verrà accompagnato dal gruppo di Fulvio Felisiano. Quanta gente vi aspettate e che pubblico vi aspettate? La figura di Jimmy Hendrix raccoglie abbastanza generazioni, perché lui è rimasto sempre un po' l'artefice di quella che è la chitarra odierna, anche contemporanea, quindi io credo che ci saranno un bel po' anche curiosi, perché Hendrix è comunque un nome, chiunque abbia a che fare con la musica, dal blues al rock, ha sempre un po' di curiosità riguardo a questo nome.